Risolviamo questa espressione che contiene sia i numeri razionali sia le potenze. Apro la parentesi tonda e vado a calcolare il minimo comune multiplo tra i denominatori di questi numeri. Allora qui ovviamente avremo un 1 sottinteso, poi abbiamo 2 e 3. Il denominatore comune sarà il minimo comune multiplo tra questi tre numeri. In questo caso vi consiglio come sempre di partire dal numero più grande e di vedere se lui può essere il minimo comune multiplo. In questo caso il 3 è un multiplo di 1 perché 1 per 3 fa 3 ma non è un multiplo di 2 perché non c'è nessun numero intero che moltiplicato per 2 ci dia 3. Allora proseguo con i multipli di 3, il primo l'abbiamo già visto ed è 3, il secondo multiplo di 3 è 3 per 2 scusate che fa 6. Quindi 6 è il secondo multiplo di 3, andiamo a vedere se può essere multiplo anche di 1 e anche di 2. Allora è multiplo di 1 perché 1 per 6 fa 6 ed è multiplo di 2 perché 2 per 3 fa 6. Quindi 6 è il nostro minimo comune multiplo che va a costituire il denominatore comune. Ora, 6 diviso 1 che era il denominatore sottinteso sotto al 2, 6 diviso 1 fa 6, 6 per 2 fa 12. 6 diviso 2 fa 3, per 3 9. E poi 6 diviso 3 fa 2, per 1 2. Chiudo la parentesi e riscrivo la potenza. Diviso, linea di frazione e calcolo il denominatore comune tra 2, 3 e 1. Sono gli stessi numeri che avevo qui sotto, quindi so di per certo che il denominatore comune sarà 6. 6 diviso 2 fa 3, per 1 3. 6 diviso 3, 2 per 2, 4. 6 diviso 1, 6 per 1, 6. Riscrivo la potenza per, denominatore comune in questo caso è 3, 3 diviso 1, 3 per 1 3. meno, 3 diviso 3, 1 per 1, 1. Meno, aperta tonda, denominatore comune in questo caso è 6. 6 diviso 1, 6, per 1, 6. Meno, 6 diviso 6, 1 per 5, 5. Chiusa tonda alla seconda. Allora, adesso vado a risolvere le somme e sottrazioni ai numeratori. Quindi 12 meno 9 fa 3 e 3 meno 2 fa 1. Quindi scrivo un sesto alla seconda. Diviso, aperta tonda, 3 più 4, 7. 7 meno 6, 1, quindi un sesto. Chiusa la tonda alla seconda. Per 3 meno 1 fa 2. Quindi 2 terzi. Scriviamo un po' meglio questo 3. 2 terzi alla seconda. Meno, 6 meno 5, 1. Quindi un sesto alla seconda. Ora, vediamo un pochino cosa si può fare. Qui abbiamo una divisione tra due potenze che hanno la stessa base e lo stesso esponente. Praticamente una divisione tra un numero e lo stesso numero. Il risultato di questa divisione sarà quindi 1. Lo possiamo dimostrare utilizzando le proprietà delle potenze perché abbiamo detto che quando c'è una divisione tra due potenze con la stessa base, il risultato sarà una potenza che ha per base la stessa base, quindi in questo caso un sesto. E come potenza la differenza tra le potenze, cioè 2 meno 2. 2 meno 2 fa 0. Quindi qui scrivo 0. E qualunque numero elevato alla 0 dà come risultato 1. Quindi al posto di questa cosa posso scrivere 1. Per 2 terzi alla seconda. Non possiamo applicare proprietà. Allora svolgo la potenza, quindi distribuisco l'esponente a numeratore e denominatore. 2 alla seconda diventa 4 e 3 alla seconda diventa 9. Meno, anche in questo caso vado a svolgere la potenza, 1 alla seconda fa 1 fratto 6 alla seconda fa 36. 1 per 4 noni fa 4 noni, meno un trentaseiesimo. denominatore comune tra 9 e 36 è 36, infatti è un multiplo anche di 9, perché 9 per 4 fa 36. Quindi scrivo il denominatore comune 36, 36 diviso 9 fa 4, 4 per 4 fa 16, meno 36 diviso 36, 1 per 1, 1. Quindi il risultato è 15 trentaseiesimi, che è una frazione non ridotta ai minimi termini, infatti i numeratori e i denominatori hanno un divisore comune che è 3. 15 diventa 5 diviso per 3 e 36 diviso 3 diventa 12. Quindi il risultato è 5 dodicesimi.